non è proprio dai, stai a guardare guardiamo un po' sono più bravo di dare così che è la mi chiede la città scusami mi chiede la città mi chiede la città e qui fu un bie 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 grande grande Sì, vediamo anche... ...fobia, eh? ...i tempi, non vuoi che cosa vuoi? Starsi schiacciare. No, non si schiacciare tantissimo. Ah, ho capito, devi schiacciare là per fare i... ...i salti. ...mo ci provo. Devi fare quando c'è un... ...mega salto. Oh, perché non lo fa? Oh! 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 Buona...